Mr. Guariglia, il 2015 inizia nel migliore dei modi con questa splendida vittoria? Diciamo che abbiamo iniziato il 2015 come abbiamo finito il 2014 con una vittoria. Era importante per tanti aspetti, per rimanere ancora in corsa, in scia del quinto posto che ci porta ai play-off. L'obiettivo play-off quindi sempre più possibile per questa squadra che gioca bene, diverte? Sì, sicuramente l'obiettivo primario è una salvezza tranquilla. Poi la società ha fatto degli sforzi durante la pausa invernale per raggiungere l'obiettivo che è quello dei play-off. Senza dimenticare il fatto che l'obiettivo principale è quello di valorizzare le risorse delle strutture giovanili. A proposito di questo anche oggi ci sono stati degli esorti? Sì, oggi è esordito Coppola, l'oltre scorso Amalfi e dobbiamo dare un senso a questo progetto del Provisportivo Santa Maria. Abbiamo un buon numero di ragazzi nel terzo giovanile. È giusto che gli venga dato spazio, supportato anche dall'esperienza di qualche ragazzo un po' più esperto. Analizziamo la partita di oggi. Santa Maria migliore nella ripresa, nel primo tempo ha strigliato un po' i ragazzi che forse nel primo tempo si erano rilassati, visto anche l'avversario ultimo in classifica con un solo punto. Queste sono sempre partite un po' particolari, si affrontano con un calo di tensione al minimo. Il fatto che sono arrivati anche in ritardo, erano anche giusto 11 o 12. Questo non giova mai alla mente del gruppo, crea sempre qualche squilibrio. Infatti nel primo tempo abbiamo preso un po' sotto gamba, ho fatto dei cambi. Qualche strigliata ci vuole ogni tanto, altrimenti si culano troppo e si fanno delle brutte figure. Grazie a tutti.